La morsa si sta stringendo, tenete presente che quello di ieri è semplicemente un anello di una lunga catena soprattutto fatto dalle forze di polizia dello Stato che anche il giorno prima avevano fatto delle operazioni analoge quindi noi abbiamo semplicemente continuato in questo percorso. Ancora un blitz all'ennesimo della polizia di Stato a Campo di Marte nel quartiere di Saione una delle zone più calde della città, teatro negli ultimi tempi di numerosi episodi di microcriminalità e degrado 20 in tutto le persone traspacciatori e assuntori identificate o denunciate dalla polizia municipale si tratta di cittadini italiani ma anche extracomunitari provenienti soprattutto dalla Nigeria o dal Ghana sequestrati infine 26 grammi di hashish e 4 di cocaina. Sono state controllate 15 persone, 6 sono state denunciate per irregolarità alla legge 286 del 98 cioè le norme sull'immigrazione, una persona è stata denunciata per possesso di sostanze stupefacenti abbiamo poi segnalato alla prefettura una persona per l'articolo 75, altre due persone sono state invece multate sulla base del nuovo regolamento di polizia urbana oltre ovviamente ai controlli in materia amministrativa. A lanciare l'allarme negli ultimi giorni erano stati nuovamente i commercianti e i residenti della zona a preoccupare maggiormente le gallerie dell'ex palazzo Sanda. Dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli era partita la proposta di chiudere l'accesso proprio alle gallerie. Una soluzione attualmente è allo studio del sindaco di Arezzo ed è un provvedimento che riguarda una migliore salvaguardia della proprietà. Ovviamente è ancora allo studio, io ovviamente mi devo rimettere a quelle che poi saranno le decisioni della parte politica però ovviamente ieri abbiamo potuto anch'io ho potuto constatare De Visu che la situazione merita un approfondimento piuttosto urgente.